Buongiorno FTA Online, abbiamo incerto questa mattina per la borsa, il Futsi Mib infatti in questo momento lascia sul terreno 0,16%, siamo intorno ai 22.515 punti, da un punto di vista grafico forse più interessante ancora del Futsi Mib è il DAX che qui sul grafico orario, ci mostra una fase laterale che ormai dura da diverse sedute dal massimo del 4 di ottobre, come sappiamo una fase laterale come questa può avere un duplice sviluppo, ci può essere la violazione della sua base, in questo caso dei 12.900 punti, che implica un segnale di debolezza molto rilevante, nel caso specifico al di sotto di quei livelli le oscillazioni dell'ultimo seduto si dimostrerebbero un doppio massimo, ma ci può essere anche il superamento del lato alto della fase laterale ad indicare un ritorno di forza da parte del mercato e in questo caso il segnale avrebbe di sopra dei 13.000 punti, quindi fino a che il DAX non uscirà da questa fascia 12.900-13.000, le borse europee in generale saranno abbastanza ingessate e invece la violazione di 12.900 sarebbe un segnale negativo probabilmente anche per la borsa nostra domestica, con il Fuzzimib che in quel caso scenderebbe al di sotto dei 22.250 per arrivare probabilmente fino ai 21.8, 21.8 e 20 punti, che è il gap dell'11 settembre, oppure al di sopra dell'area 13.000 anche il Fuzzimib ritroverebbe la strada del rialzo, potendolo puntare verso i 23.250 punti, quindi il suggerimento in questa fase è quello di seguire l'andamento del DAX per ricavarne segnali al debordo da questa fascia, utili anche per interpretare l'andamento dei mercati azionari nel complesso. Questa mattina seguiamo alcuni titoli abbastanza scorrelati dall'andamento dell'indice, tutti con una situazione grafica molto positiva, iniziamo con Amplifon che stamattina è sostanzialmente neutrale, intorno ai 13.60, anche nel caso di Amplifon come abbiamo appena visto per il DAX c'è una fase laterale in corso, vediamo cosa ci suggerisce il nostro mega trader, il sistema di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con Trend Online, cliccando qui nella I, la parte alta dello schermo potete accedere alla prova gratuita, per Amplifon il suggerimento è long, dal 1 settembre la posizione è stata intrapresa il 1 settembre, negli ultimi 12 mesi i suggerimenti hanno portato a un utile del 30% circa, mentre l'utile di questa posizione iniziata il 1 settembre è del 10% circa, la valutazione del titolo è molto positiva, 5 stelle con trend breve, trend medio e trend lungo termine, tutti al rialzo, diciamo che il titolo sta disegnando una fase laterale, anche in questo caso quindi bisognerà stare attenti se i prezzi dovessero scendere al di sotto della base di questo trading range che si posiziona intorno ai 13,50 Euro, 13,55 Euro, perché in quel caso ci sarebbe il rischio di un return move a toccare dall'alto i massimi che il titolo aveva toccato a giugno di quest'anno a 13,13 Euro, fino a che ci manteneremo in quell'area non ci saranno problemi per la tenuta dell'up trend di medio e lungo termine, sotto i 13,10 Euro circa ci sarebbe invece un rischio di un'evoluzione negativa di più ampio respiro che potrebbe comportare il raggiungimento anche di area 12,50 Euro, al di sopra invece dei massimi di ieri a 13,70 Euro avremmo l'uscita da questo trading range, un primo segnale di ritorno di forza che potrebbe implicare con il tempo e il raggiungimento anche di area 14,85 dove vediamo il lato alto del canale crescente che parte dai minimi dello scorso dicembre. Passiamo adesso ad Erg, un titolo che questa mattina è sotto i riflettori per notizie che lo riguardano, 13,81 la quotazione attuale, massimo di ieri 13,72, massimo invece di periodo, quello del 20 settembre è sempre a 13,72, quindi questa mattina saremmo saliti al di sopra di questa resistenza, sarà interessante vedere se i prezzi si sapranno confermare al di sopra di area 13,70 anche in chiusura di seduta, in quel caso avremo un segnale di forza interessante che potrebbe tradursi anche in un segnale di medio termine. Anche nel caso di Erg la valutazione del trading del sistema è già long, sta guadagnando attualmente il 10% circa sull'ultima posizione che è stata intrapresa l'11 agosto e anche in questo caso abbiamo una valutazione di rating molto positiva, il trend di lungo termine viene valutato a rialzo ormai da 42 sedute, quindi circa due mesi, il trend rialzista è contenuto all'interno di questo canale crescente che parte dai minimi dello scorso dicembre, il lato alto del canale che funziona da resistenza è stato avvicinato dai massimi di settembre e ora tornerà ad essere il target, si posiziona intorno ai 14,20 se effettivamente la chiusura di oggi dovesse confermarsi al di sopra di area 13,70, dovessimo invece rivedere prezzi al di sotto della base della fase laterale delle ultime 3-4 settimane, quindi al di sotto di 13,30, in quel caso ci sarebbe un rischio di ritorno sulla base del canale, perciò area 13,30 potrebbe essere considerata allo stop loss per posizione al rialzo da attivare già anche sui prezzi adierni o meglio con più prudenza in caso di chiusura stasera a di sopra di 13,70. Veniamo infine rapidamente anche a Cerved, altro titolo molto interessante, questa mattina sostanzialmente neutrale, ma nelle ultime sedute superando il massimo di maggio a 10,35 che ora funziona da supporto, ha inviato un bel segnale di forza, Megatrader ci suggerisce una posizione, vediamo insieme, per Cerved al rialzo, questa posizione al rialzo è stata intrapresa il 1 settembre, sulla quale il guadagno è già dell'11%, valutazione a 5 stelle anche per il titolo Cerved, il trend rialzista si nota una decisa accelerazione rispetto al movimento che è partito all'inizio del 2016, vediamo come le linee di tendenza che sostengono il trend sono via via maggiormente inclinate, l'ultima quella che descrive la situazione attuale in modo abbastanza fedele, è quella che parte dai minimi del novembre dello scorso anno, la parallela di quella che è stata toccata anche dai massimi del mese di maggio, si posiziona attualmente intorno agli 11,35, target in caso di superamento di area 10,60 e 10,65, anche in questo caso lo stop per eventuali posizioni al rialzo è ben identificabile, corrisponde ai massimi di maggio a 10,35, quindi in caso di discesa di sotto i quei livelli abbandonare la strategia a rialzo perché ci sarebbe il rischio di un approfondimento verso la base del canale, verso i 9,50 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata, come sempre vi invitiamo a commentare i nostri video e a suggerirci quali potrebbero essere i temi di vostro interesse.